Siamo andati a Guardasone, che era un monte, lì appena dopo San Polo. Siamo stati là, abbiamo mangiato a mezzogiorno, che prendevamo i panini dietro, così. E poi abbiamo deciso, perché eravamo vicini al primo maggio, e abbiamo preso un foglio di carta e poi ci abbiamo fatto una bandiera con i rossetti da labbra, che avevamo, quelli che avevamo, perché... E poi un ragazzo, abbiamo trovato un bastone, abbiamo preparato un abbrocco, un pezzo di legno, e poi ci abbiamo legato questa bandiera e poi lui è partito, è andato su un pino ed è andato a metterla là, la legata, e poi noi siamo partiti, siamo venuti via, perché dopo c'era poi della gente che faceva la spia e già andavano a vedere se ci trovavano là, qualcuno anche se li potevano iscrivere anche se non avevano 18 anni. e di lì poi ci hanno insegnato le canzoni, le canzoni di Bandiera Rossa e tutte quelle altre canzoni che poi si cantavano anche, diciamo, dopo la guerra.